Ah! Ma... perché? Oh, tu... non sei un essere vuoto, eh? Grazie al cielo, sono finito, temo. Presto morirò, poi perderò il senno. Sì, capisco. Forse ho nutrito troppa speranza. Per favore, lasciami solo. Non mi resta molto da vivere e potrei farti del male una volta morto. Vai, ora. Purtroppo, io ho fallito nella mia missione. Ma forse tu potrai portare la mia fiaccola? C'è un vecchio detto nella mia famiglia. Oh, tu, che sei un non morto, tu sei prescelto. Nel tuo esodo dal rifugio dei non morti, compi un pellegrinaggio verso la terra degli antichi lord. Quando suonerai la campana del risveglio, il destino dei non morti conoscerai. Beh, ora lo sai. E io posso morire con la speranza nel cuore. Oh, un'altra cosa. Ecco, prendi questa. Una fieschetta Estus, la preferita dei non morti. Oh, e questa? Ora devo dirti addio. Odirei farti del male dopo essere morto. Per cui va. E grazie.